Allora, questo è un aroma cremoso, un aroma, diciamo, ha il sapore di merda, ci sento parecchio il sapore del gusto di gabinetto, diciamo mattutino, della merda mattutina. Io ci sento la nocciola, ci sento la pesca, ci sento la mano di contadino e gli ha raccorto la nocciola, diciamo, è tutto un patto, diciamo, gli ha un buon grip in gola. Allora, ripeto, io uso solamente atomizzatori 4.0, un K2, un K4, perché secondo me si sente più l'aroma. Ma parliamo adesso di nuovo liquido, il K-urina 32. L'urina 32 gli ha un sapore più acido in gola, diciamo, gli è più pungiglioso per chi garba più sapori freschi per l'estate, lo consiglio, perché portatevela dietro. Comunque, se cercare un aroma più cremoso, io vi consiglio il super smerdoso, col sapore, diciamo, cremoso, diciamo, corretto gusto, stuzzichino, sbarazzino, diciamo, speziavo, ambraco. Diamo uno svapo e va bene sia su un clip di 4.0 che su un 4.1 svaporizzazione di 4.3. Perché, diciamo, il suo Apple ha il suo clip, diciamo, che ve l'ha fornito dalla stessa Apple, diciamo, il clip. Comunque, diciamo, a me mi gira meglio, diciamo, un liquido più saporito, diciamo, una Apple. Vedete, questa è la nuova svapo 7.40 della Beretta. Questa è una svapo importante. A me una volta, per dirmi, l'ha mai esplosato in viso, mi sono spaccavo i denti, poi mi erano rimessi, me lo rimborsavo. La potete fare sia a pipetta per i crack, che svuotandola all'interno e usarla come pipetta per i crack. Che va di morto in voga, diciamo, fra giovani. E vedete, come gli è fatta da questa forma cilindrica, gli è tonda, diciamo. E ci mette il liquido e vi sbappai con una svaporazione da 7.30, 50 e 50, VPG, HCCP e, diciamo, HCCP. Con una nicotina 3.0, diciamo, ti apri i formoni, ti spacca i formoni o se tu vai all'ospedale o se tu mori. Ma poi, la cosa canza di questa sigaretta, diciamo, per volentos, la puoi usare anche per battitare nei coglioni. Perché è molto funzionale, capito?